Ecco, volevo farvi vedere un piccolo programma, questo Any Video Converter, che è un programma che consente di trasformare i vari formati, quindi passare da un MP4 a uno GV, se volete fare un video per Godot. Purtroppo quando si lavora con i formati audio e video, spesso i programmi disponibili sono pericolosi, nel senso che possono indurre malware o comunque cose non volute. Any Video Converter, anche lui ha un certo margine di rischio, nel senso che quando si installa, se non si fa attenzione, installa Opera o altri programmi antivirus, ma come vediamo non dovrebbe essere difficilissimo da evitare. Esistono anche delle altre proposte che usavo anche anni fa, ma leggermente più complicate da usare. Comunque, Any Video Converter, se lo cercate, Any Video Converter, abbiamo un, per esempio, qui lo possiamo scaricare da alcuni siti, oppure addirittura, credo anche dal suo sito ufficiale. Quando si scarica sono un 40-50 megabyte, in questa cosa 56 megabyte, io l'ho già scaricato, no, avcfree, attenzione a scaricare l'avcfree, quindi aspettiamo un attimo a nulla, vediamo un po', freeware, ecco, Any Video Converter free, questo, quindi cercate questa versione, non l'altra. Qui abbiamo la versione per Windows e credo per Mac, la versione per Windows, eccolo qua, dice no malware, ma in realtà un qualcosa di paragonabile c'è, quindi avcfree, dicevo avcfree, io l'ho già scaricato prima, se lo lanciate, ecco, vediamo un po' cosa offre, vi faccio vedere qual è l'eventuale rischio che potete evitare. quando lo installate, ok, lui si parte, ok, gli diciamo questo ok, lo potete accettare, customize install, gli dite dove eventualmente metterlo, quando, ecco, vedete qui cerca di installarvi Opera Browser, che non è un malware di per sé, però non è detto che voi siate interessati, quindi dovete togliere il tick, fate next, e a questo punto si installa il vostro avcfree. Noi però che l'abbiamo, vabbè, possiamo lasciarlo andare giusto per evitare problemi, l'avevo già installato, si installerà due volte, ok, quando è installato a questo punto avete un, potete lanciarlo, e lancio, cosa succede? Che vi compare questa finestrella. ora, io ho Big Buck Bunny, che è un video di quelli, come vedete, molto semplici, questo qui con il coniglione, l'avete già visto, l'uccelletto, eccetera, con il coniglione, ecco, se questo lo trascinate dalla finestra verso, a volte funziona questa cosa, a volte no, quindi prendiamo un, ok, andiamo in add videos, e poi prendiamo il Big Buck Bunny, eccolo qua, e poi qui dovete cercare nel, nel file di conversione, il tipo che volete, quindi andiamo tipicamente, io vado qua sull'ultimo, e vado, e vado a cercarlo nei tipi che sono qua, qui vedete che c'è un OGV, qui, e quindi lui mi permette di fare la conversione, convert now, e quindi facendo questa conversione noi abbiamo il nostro video convertito, e te lo mette a fianco, nello stesso direttorio da dove l'avevamo preso, quindi adesso qui, ok, l'ha finito, e qui vedete che vi ha fatto la conversione, e quindi potete usarlo, questo è tutto, buonasera.